Hai un magazzino o un negozio? È ora di vendere online. Non sai come fare? Desideri raggiungere un mercato globale? Cellmasters è la soluzione per te. Noi ci integriamo con il tuo store online. Troviamo il giusto mercato per i tuoi prodotti a livello nazionale e internazionale, curando la creazione di schede prodotto e concordando con te il prezzo ottimale. Ti garantiamo un servizio completo di Customer Care Multilingua e gestiamo tutte le fasi di spedizione, compresi resi e rimborsi. Tutte queste operazioni sono a costo zero. Guadagniamo solo se tu guadagni con una piccola percentuale sul venduto. Cosa aspetti? Candida la tua azienda. Potresti essere il nuovo partner di Cellmasters. Cambia le tue prospettive per un mondo che cambia. Visita il nostro corso gratuito.